Oggi abbiamo dato delle risposte rispetto alle tematiche che avevano toccato nella riunione precedente e quindi oggi abbiamo chiuso il cerchio rispetto al programma della Giunta Provinciale sulle tematiche che interessano le categorie economiche. Credo che faccia parte della cosetta concertazione che occorre fare per capire quali possono essere le scelte migliori per la comunità tentina che dovranno essere fatte nei prossimi mesi. Il tema in primis legato alla casa, legato alla capacità degli stipendi trentini di essere competitivi, il tema della parte turistica, della parte imprenditoriale, della parte legata agli investimenti pubblici e la parte legata all'autonomia, quindi quello che stiamo facendo con le altre regioni a statuto speciale in tema di salvaguardia dell'autonomia, meccanismo dell'intesa e competenze primarie.